Musica Primo maggio senza cortei comizi in città una cerimonia per omaggiare medici e infermieri che hanno perso la vita nell'emergenza coronavirus. Non riapriranno prima di giugno parrucchieri ed estetisti, in provincia di Lecco sono 700 le attività ancora ferme, inevitabili le ripercussioni sull'occupazione. Il governo è pronto a sostenere le tv locali che fanno informazione qualificata, sono un presidio di democrazia in questo momento difficile, spiega il senatore Ferrazzi, primo firmatario della proposta. Il comune di Lecco lancia una campagna per far emergere gli episodi di violenza domestica. Con il coronavirus i casi non diminuiscono, le vittime devono farsi avanti e denunciare. Buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unicale. Ecco, domani primo maggio si celebra la festa del lavoro, una ricorrenza quest'anno senza cortei e comizi a seguito dell'emergenza coronavirus. In città una cerimonia religiosa e civile dedicata ai medici e agli infermieri che sono morti in questi mesi difficili. Il pensiero dei sindacati va inoltre ai lavoratori più deboli, alle famiglie e a chi ha aiutato nelle emergenze. Primo maggio, festa dei lavoratori, niente cortei e comizi a Lecco come nel resto d'Italia. Il coronavirus costringe a rimanere in casa, ma non cancella una delle ricorrenze più importanti sul calendario, quest'anno dedicata a medici e infermieri che hanno perso la vita per combattere la pandemia. Unica trasmetterà domani dalle nove in diretta la messa in Basilica di San Nicolò, seguita dall'omaggio al monumento dei caduti al lavoro al Caleotto. Sentiamo ora gli interventi dei segretari locali di CGL, Cisle Will. Non dobbiamo dimenticare tutte le persone con contratti atipici e stagionali o in cerca di un'occupazione. Con l'emergenza sanitaria in corso, le loro condizioni sociali sono destinate a peggiorare. Dobbiamo lavorare tutti assieme per migliorare il loro futuro. Non ci stancheremo mai di ricordare che l'articolo 1 della nostra Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. A voi tutti un sentito buon primo maggio. L'imminente ripresa di molte attività produttive per noi è una priorità, quella della salute e della sicurezza e dunque della vita di chi lavora, applicando rigorosamente i sistemi di protezione individuali. Oggi in una fase di grande incertezza sul futuro il sindacato vuole lanciare un messaggio. Ci siamo a fianco di lavoratrici e lavoratori e affronteremo come sempre problemi insieme perché da soli non si va da nessuna parte. Buon primo maggio a tutte e a tutti. Grazie alle nazioni che ci hanno aiutato in questo momento molto difficile. Ci hanno aiutato perché noi siamo un paese pieno di valori. Quei valori che ci aiuteranno a uscire da questa situazione di emergenza e di difficoltà. Noi dobbiamo riaprire le attività produttive, ma lo dobbiamo fare garantendo la sicurezza e la salute a tutti i lavoratori e lavoratrici. Un buon primo maggio a tutti quanti. Le istituzioni, la politica e i cittadini si ricordino della sanità pubblica non solo nelle emergenze. Risuona perentorio l'appello dei sindacati degli ospedali di Lecco, Bellano e Merate. Questo primo maggio spiegano per i dipendenti della SST Lecco un doppio valore. Abbiamo resistito in questi anni ai tagli sulla sanità pubblica e abbiamo subito le conseguenze della gestione dell'emergenza coronavirus con circa 370 dipendenti infetti. Ora concludono i rappresentanti dei lavoratori. È il momento di dare sicurezza ai dipendenti e di investire di nuovo nella sanità pubblica per troppo anni devastata da politiche regionali e nazionali. Sbagliate. Parrucchieri ed estetisti non riapriranno prima del prossimo. primo giugno in provincia di Lecco sono 700 le attività costrette allo stop ma con fartigianato lancia l'allarme. Saranno inevitabili così ripercussioni sull'occupazione. Parrucchieri ed estetisti non riapriranno prima del prossimo primo giugno. Questa è la decisione annunciata dal premier Giuseppe Conte. Continueranno dunque a sperimentare con risultati talvolta discutibili gli amanti del fai da te, mentre dovranno attendere ancora un mese tutti gli altri. Ma la delusione è soprattutto quella dei lavoratori. Abbiamo previsto misure di igiene e sicurezza che saranno garantite nelle nostre attività a tutela dei nostri clienti e dei nostri collaboratori, afferma Giuseppe Lacorte, presidente della categoria Benessere di Confartigianato Lecco. Siamo in grado di ripartire prima del primo giugno. In questo modo e col proseguire del fermo delle attività, il governo agevola gli abusi come una sorta di legalizzazione del lavoro nero. In provincia di Lecco sono circa 700 le realtà costrette allo stop per oltre 1.600 addetti. Nel mese di marzo era stata fatta una riduzione del 30% di fatturato. Aprile non ha portato guadagni e anche maggio si prefigura tale se non ci saranno ulteriori cambiamenti. Consenso di responsabilità, afferma il segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli, abbiamo elaborato e presentato proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E ora non accettiamo che le attenzioni del governo siano rivolte ad altri settori e si limitino ad una incomprensibile dilazione per la ripresa delle nostre attività. Del resto, al primo giugno, aggiunge Fumagalli, cosa potremmo fare di più rispetto ad oggi in termini di sicurezza? Confartigianato ha calcolato che lo stop nei mesi di marzo-aprile-maggio causerà alle imprese di acconciatura di estetica una perdita economica di oltre un miliardo di euro, pari al 18% del fatturato annuo. E sarà difficile evitare ripercussioni sull'occupazione perché i mancanti ricavi mettono a rischio il lavoro di 49.000 addetti. E ora una notizia di servizio. Con l'arrivo della fase 2 della gestione dell'emergenza Covid-19 la navigazione del lago di Como si prepara ad accogliere sulle proprie imbarcazioni i passeggeri e i veicoli con nuove orari e misure di sicurezza. I traghetti che hanno finora circolato tra Menaggio, Bellagio e Varenna nel rispetto delle fasce di garanzia torneranno a viaggiare con maggiore frequenza a partire dalle 5.40 del mattino fino alle 19.55 in vista della riapertura di molte attività e la conseguente maggiore necessità di spostamento di lavoratori e mezzi. Dopo alcune settimane di stop forzato riprenderà anche a circolare il battello nel bacino di Como con corse fra le 6.50 e le 20.35. Per salire a bordo sarà necessario indossare la mascherina protettiva e sarà messo a disposizione dei passeggeri gel disinfettante. I posti a sedere saranno resi disponibili nel rispetto della distanza di sicurezza. La portata delle navi verrà di conseguenza ridotta per evitare assembramenti. Inoltre, traghetti e battelli saranno sanificati quotidianamente. Infine, per fornire adeguata comunicazione sono stati creati appositi cartelli informativi per i passeggeri. Sostenere le mettenti TV locali, un presidio di democrazia e un aiuto prezioso alle persone sole in questi mesi difficili. Andrea Ferrazzi, senatore del PD, ha proposto un ordine del giorno poi adottato dal governo per garantire fondi straordinari alle televisioni locali come la nostra che producono informazione qualificata. Le televisioni locali nell'epoca del coronavirus hanno avuto un ruolo fondamentale. Hanno informato i cittadini, ma purtroppo fanno i conti con la crisi del mercato pubblicitario. Per questo le associazioni di categoria hanno chiesto un sostegno al governo. Andrea Ferrazzi, senatore del PD, ha presentato un ordine del giorno approvato e ora se ne attendono gli effetti perché appunto il governo sostenga con misure straordinarie il nostro comparto. Senatore, perché ha presentato questa proposta? Perché in generale la qualità della democrazia si mutere della qualità dell'informazione, della libera informazione, del pluralismo dell'informazione. E in particolare in questa fase assolutamente drammatica è del tutto evidente che le emittenti radio e televisive locale hanno avuto un ruolo essenziale per la nazione. Un ruolo di informazione, di rassicurazione, di accompagnamento. Pensiamo a tutte quelle centinaia di migliaia di persone solo a casa che non potevano avere contatti con niente o con nessuno. che sono state appunto, come dire, prese per mano e anche aiutate a superare questa fase assolutamente drammatica. Naturalmente non ci sono solamente gli emittenti locali, ci sono anche quelle nazionali, ma sa, una cosa è vedere una trammissione nazionale che leggi comunque distante anche dal punto di vista dell'informazione sul tuo territorio. Altra cosa è avere un'informazione continuativa che ti dice sulla tua città, sul tuo paese, quello che sta succedendo, come stanno alcune persone, quali sono le attività locali, come funziona l'ospedale e la rete di medici di base lì dove vivi tu. E' quindi dal tutto evidente che questo ha bisogno di continuità, di sostegno. E' un momento di grande crisi economica, anche per gli emittenti locali, sostenerle, vuol dire, sostenere, come dire, un'infrastruttura fondamentale della democrazia. Il governo sta aiutando e sta sostenendo tutti i settori economici. E perché non dovrebbe sostenere chi fa informazione? Perché vede, tutte le aziende sono importanti, ma ce ne sono alcune che per il patrimonio nazionale, e l'equilibrio dei poteri e la qualità reale della vita democratica hanno più importanza degli altri. E su questa informazione, naturalmente, è al centro di questo ragionamento. E allora noi prevediamo un finanziamento fondamentalmente aggiuntivo. Il governo ha recepito nella discussione in Commissione Bilancio questa indicazione, ha fatto proprio l'ordine del giorno. E quindi l'accordo politico è che nel decreto, cavallo tra aprile e maggio, appunto ormai a maggio, quello del decreto 3, ci sarà l'introduzione di un finanziamento. Questa è la battaglia che noi stiamo compiendo. Il coronavirus non ferma il lavoro dei centri antiviolenza, perché continuano a essere tante, purtroppo, le donne vittime di maltrattamenti. Il tavolo della rete territoriale antiviolenza e il Comune di Lecco lanciano per questo motivo una nuova campagna di informazione. Alice, non sei sola. Il coronavirus non ferma il lavoro dei centri antiviolenza, ma ciò significa anche che il fenomeno della violenza di genere continua a crescere e destare preoccupazione. Il tavolo della rete territoriale antiviolenza e il Comune di Lecco lanciano la campagna di informazione Alice, non sei sola, proprio con lo scopo di ricordare che anche in questa fase di emergenza sanitaria i servizi di aiuto alle donne vittime di maltrattamenti sono attivi. La campagna si propone di raggiungere quante più persone e quante più donne possibile attraverso la diffusione di locandine, i luoghi aperti al pubblico ed informazioni tramite canali social. Più che mai in questa fase di emergenza è importante attenzionare fasce della popolazione che possono trovarsi in particolari situazioni di difficoltà, non solo di tipo sanitario e economico, sottolinea il vice sindaco di Lecco, Francesca Bonacina. Il coronavirus non deve farci perdere di vista né abbassare la guardia rispetto a questioni importanti come quella della violenza domestica. E questo è esattamente lo scopo della campagna, per la quale chiediamo l'aiuto di tutti anche sul fronte della diffusione delle informazioni. Per richiedere aiuto e contatti a disposizione sono quali territoriali di Telefono Donna Lecco e dell'altra metà del cielo Telefono Donna di Merate. Oltre al numero gratuito 1522 del Dipartimento Nazionale per le Pari Opportunità, che consente alle donne di mettersi in contatto con operatrici specializzate, è alla app YouPoll della Polizia di Stato. Un grazie sincero, conclude l'assessore, a tutti coloro che quotidianamente, spesso in modo silenzioso, fanno la loro parte perché nessuna donna in difficoltà sia lasciata sola. Spazio ora ai nostri buoni motivi, prima dei vostri contributi, ospitiamo nell'ambito di scrittori per noi, proposta realizzata in collaborazione con Confcommercio e sistema bibliotecario lecchese, il poeta Alessandro Barbaglia che ci legge un brano del libro Big Fish. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Alessandro Barbaglia e quando Leggiormente, che è uno dei festival che più mi sta a cuore, mi ha chiesto di collaborare a questa lettura virtuale e collettiva insieme al sistema bibliotecario lecchese, ho pensato, ma è fantastico, è meraviglioso. La lettura è sempre un gesto virtuale, avviene sempre nella solitudine della mente del lettore che virtualmente vive e attraversa le avventure che sta leggendo e che sta incontrando nel silenzio della lettura. Ecco che per Leggermente e per il sistema bibliotecario lecchese ho pensato di leggervi l'inizio di un romanzo magari non molto conosciuto, ma che a me sta molto a cuore. Il romanzo in questione è Big Fish di Daniel Wallace, ce n'è un film di Tim Burton molto bello, uno dei casi in cui si può dibattere davvero a lungo se sia più bello il film o il libro. Il libro però è questo, ve ne leggo l'inizio qualche pagina e sono molto felice di farlo. Forse qualche parola sulla storia? No, leggiamo e basta. Il giorno, il giorno in cui nacque lui. Nacque durante l'estate più asciutta che si fosse mai vista negli ultimi 40 anni. Il sole cuoceva la bella argilla rossa dell'Alabama fino a ridurla in polvere granulosa. Non una goccia d'acqua per miglia e miglia. Anche il cibo era scarso, niente grano, niente pomodori, nemmeno una zucca quell'estate. Era tutto rinsecchito sotto il cielo bianco e caliginoso. Tutto moriva. Prima i polli, poi i gatti, quindi i maiali e i cani. Finivano tutti insieme nello stufato, ossa comprese. Un uomo impazzì, mangiò pezzi di roccia e morì. Ci vollero dieci uomini per trasportarlo fino alla sepoltura, tanto era pesante il suo corpo, e altri dieci per scavare una fossa, tanto la terra era secca. La gente guardava verso est e diceva «Ti ricordi? Ti ricordi il fiume che scorreva laggiù? Poi guardava verso ovest? Ti ricordi? Ti ricordi lo stagno che c'era laggiù?» Il giorno in cui nacque lui iniziò come una giornata qualsiasi. Il sole si levò alto nel cielo, guardò giù verso la casetta di legno dove una moglie, con il ventre enorme, strapazzava l'ultimo uovo rimasto per colazione, per la colazione di suo marito, che stava nei campi a rivoltare la polvere intorno alle radici nere e contorte. Il sole splendeva luminoso, abbagliante. Quando l'uomo entrò in casa per la colazione, si asciugò il sudore sulla fronte con un fazzoletto azzurro e sfilacciato. Poi lo strizzò e fece cadere le gocce in un vecchio catino di stagno. Qualcosa da bere, più tardi. Il giorno in cui nacque lui, il cuore della donna si fermò per un attimo e lei morì. Poi risuscitò. Si era vista sospesa sopra di sé. Vede anche suo figlio. Disse che era luminoso. Disse che quando il suo sé si era ricongiunto a lei, aveva provato una sensazione di calore. Presto, disse. Arriverà presto. E aveva ragione. Il giorno in cui nacque lui, qualcuno scorse una nuvola proprio là sopra, una nuvola scura. La gente si accalcò per guardare uno, due, tre, quattro, poi cinquanta persone e poi di più, tutte a guardare il cielo, a guardare quella nuvoletta che si avvicinava alle case riarse. Bollenti. E prima di chiudere, vi ricordo gli appuntamenti del nostro paninsesto, domani mattina alle nove, in diretta dalla Basilica di San Nicolò, la messa in omaggio ai caduti del lavoro nell'emergenza coronavirus. A seguire, una retrospettiva sul primo maggio lecchese che verrà riproposta poi alle 19 e la cerimonia civica davanti al monumento dei caduti del lavoro al Caleotto. Il primo appuntamento quotidiano col fitness slitta dunque alle 11 in serata. Vi ricordo poi alle 19.45 una puntata speciale di Tenerali. Grazie per averci seguito. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale e vi auguro una piacevole serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti